Poche ore fa è andato in scena l'ultimo sabato di follia dei vipponi dentro la casa del grande fratello Vip. Finalmente domani la porta rossa si aprirà per tutti, uno dopo l'altro e vedremo chi sarà l'ultimo a spegnere le luci della casa. Sembra incredibile, ma sono passati sei mesi dall'inizio del reality. Ciò significa che abbiamo vissuto coi vipponi per mezzo anno della nostra vita, seguendo le loro vicende quotidianamente. Sta per concludersi infatti l'ultimo weekend per giungere alla puntata finale di domani sera, per la quale Alfonso Signorini ci ha promesso i fuochi d'artificio. Per oggi dobbiamo accontentarci invece delle figuracce di qualcuno che ieri sera non si sarebbe risparmiato. Ieri sera si è festeggiata la penultima serata insieme e i vipponi hanno goduto della musica fino a tardi. Poteva mancare l'alcol per brindare? Ovviamente no, ma forse qualcuno avrebbe dovuto evitare. Gli spettatori si sono sintonizzati sul canale 55 Mediaset Extra per vivere coi vipponi l'ultimo. Sabato sera. Dopo aver mangiato, ballato e bevuto tutti i concorrenti hanno brindato nuovamente. Al loro viaggio dentro la casa più spiata d'Italia. Prima che luci si spegnessero però. Delia Duran è praticamente svenuta sul divano e i fan l'hanno immediatamente castigata. Talmente sbronza che collassa sul divano. Molti fan da casa però la criticano non regge l'alcol e l'attrice riesce ad accendere la polemica su di sé. Anche il penultimo giorno di reality. L'appuntamento è per domani sera per scoprire chi vincerà il grande fratello VIP.